Action news, action news relativa alla sterlina perché si torna a parlare di periodo di transizione. Sapete che marzo 2019 ci sarà ufficialmente Brexit, poi è stato richiesto da UK un periodo di transizione perché per marzo 2019 non ce la facciamo a trovare degli accordi e quindi un periodo di transizione che noi europei abbiamo fissato per il 31 dicembre 2020 ed oggi c'è questa news, faccio vedere dal sito Bloomberg che è venuto in possesso di questo draft, di questa bozza, vedete, proprio del draft text for discussion, quindi una bozza, testo di bozza per una discussione per quanto riguarda il periodo di implementazione e transizione. Il titolo dell'articolo proprio di Bloomberg dice che l'UK, Theresa May, vuole un periodo di transizione non necessariamente più lungo, dice il tempo che ci vuole, quindi potrebbe essere di più, di meno, cioè ha detto non fissiamo praticamente, ha detto Theresa May, non fissiamo una data precisa, vediamo quello che ci vorrà, insomma il tempo che verrà richiesto. E oggi poi c'è stata proprio la notizia che 62 membri del partito della sua maggioranza stanno proprio chiedendo una quick e clean, veloce e pulita, uscita quindi rapida, per quanto riguarda uscita dall'Unione Europea e quindi da quello che sarà il Brexit. Andiamo a vedere la reazione, la reazione della sterlina, eccola qua la reazione della sterlina, che è già dalle 10.30 con la pubblicazione dei dati, c'è anche qui i dati relativi ai salari, le buste paghe, average earnings, esclusi bonus 2.5 contro 2.4 atteso, quindi leggermente sopra, mentre in linea con le attese è quello incluso in bonus 2.5, comunque siamo a livelli altissimi. Claiming Count Change, meno 7,2k, confronto a un teso più previsto, almeno al mercato, stimato al mercato, più 4.1 e sono praticamente i sussidi, quindi un dato positivo, mentre negativo la variazione degli occupati, Employment Change, 88.000 contro i 173.000, tassi di occupazione è salito a 4.4 contro 4.3 previsto. Quindi torniamo a vedere la reazione, quindi sterlina in difficoltà, in difficoltà a partire dalle ore 10 con i dati macroeconomici 10.30, vedete c'è stata questa accelerazione, questo è un grafico a barre un minuto, l'accelerazione, c'è stato un tentativo di recupero e sono tornate ancora delle vendite con questa notizia della UK che chiede un periodo di transizione non necessario, dice non fissiamo la data al 31 dicembre 2020, quello che è prima, dopo, però non fissiamo, vedremo adesso se ci sarà o meno la risposta da parte europea con Barney, per il momento Bloomberg, vedete tranquillo, non riporta nulla, nuovi aggiornamenti. Grazie, buona giornata, arrivederci.